Mi chiamo Roberto Amalfi. Un mismo giorno sono andato in un posto che poi era anche il mio punto di partenza, dove ero prima anche. E così mi sono ritrovato nel quel posto, perché ci sono anche alcune possibilità che posso ancora ricominciare tutto da capo. E spero che questo video sia bello. Poi vedrò anche altri video con questa tipologia. Ciao! Ciao!